All'interno del coro esiste un coro più piccolo, diciamo un coro da camera, che adesso eseguirà il tuo brano. Inizieremo con il brano di Claudio Monteverdi. Cantate il domino, cantate il domino, canti con il dovo. Canto al Signore che sicuramente voi conoscerete o perlomeno intenderete come pezzo, come parola. All'interno del coro. All'interno del coro. Cantate il domino, canticum lovum. Cantate, cantate, cantate et benedicite nomini erus. Cantate, cantate, cantate et benedicite nomini erus. 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 Cantate et benedicite nomini erus. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.